Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa Andra Torre, eccolo qui ragazzi, ciao 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 Un saluto a tutti i due fan, un saluto ai miei fan ma soprattutto a Radio Globo, ovviamente al salutatore in persona, eccolo qua Io ho un raddizio e una sorpresa per te perché te la chiedi e tanto che te la voglio salutare e te la do, la pari del salutatore Ciao